Beh, questo campionato sta dimostrando che quello che io sostengo da sempre è che tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti. Non è così banale perché non sempre succede così, però questo campionato è particolarmente equilibrato, lo dicono i risultati, lo dice la classifica così compatta ed è chiaro che in questo momento noi dopo cinque vittorie consecutive in una classifica così corta e compatta abbiamo fatto un salto in avanti altissimo. Io se c'è una partita penso che sia difficile e che temo particolarmente è quella di domenica per vari motivi. Il primo motivo è perché Pistoia è forte e gioca molto bene e hanno questa forza di non arrendersi mai durante la gara, hanno trovato un equilibrio perfetto di secondo me due giocatori, il playmaker e la guardia che forse sono tra i migliori del campionato perché Moore si sta dimostrando dopo Caserta di essere un vero reale playmaker che fa giocare la squadra, che trova punti, che trova penetrazione e Knoles mi sembra la rivelazione un po' di questo nostro campionato nel ruolo di guardia. Kirk sta facendo benissimo ma soprattutto è un lungo che ti fa fare delle scelte, delle scelte particolari, tecniche tattiche, perché è bravissimo spalle a canestro ma questa capacità di tirare da 3 punti quindi di aprirsi se tu fai contenimento con lungo sui piccherolli, sui riccioli, sulle penetrazioni da aprire il campo e tira con il 50% da 3. Cis da energia, Americano nel 3 con Lombardi da dietro, danno forza, è una squadra veramente molto completa e poi bisogna dare merito sia come è stato con il sinistro della squadra, bisogna dare anche merito a Esposito perché sta osando tantissimo. Io ieri il allenamento è finito a luna, mi sono fermato fino alle otto e mezza, nove di sera ancora qui a vedermi tutti i filmati per la seconda volta di fila perché sta cercando di capire bene quali sono le sue rotrazioni, perché fa una cosa, perché fa l'altra e devo dire la verità che in tantissime partite osa molto, fa delle cose in cui bisogna avere coraggio, cambiando le difese, facendo attaccare un giocatore piuttosto che l'altro, ha delle situazioni particolari che in Italia dove si gioca abbastanza, voglio dire scolastico, però insomma offensivamente spesso si vedono tantissime le stesse cose, anche perché non avendo una squadra per tanto tempo ma dovendola aggregare in brevissimo tempo a farli giocare, all'inizio molti allenatori, io per primo faccio le cose che sono più assimilabili per loro di squadra per poi poterci lavorare, invece Pistoia fa delle cose particolari, ti forza a fare dei cambi con dei picker oltre agli esterni, cosa che non si vede tantissimo, ti porta a loro dei giochi offensivi dove porta in post basso sia degli esterni che i lunghi, alterna nel ruolo del quarto e del tre dei giocatori aprendo e chiudendo il campo, mette due numeri quattro di totalmente opposti, cioè a volte partono magari con Cis nel quattro quindi con due lunghi e poi dopo uno tra Cis e Kirk scende e gioca con Antonio T4 che invece allarga il campo e gioca solo di tagli dal lato debole facendo alcuni giochi, quindi faccio i miei complimenti a Esposito perché fa giocare la squadra in maniera particolare con una buona chimica, con tante situazioni molto interessanti e poi bisogna dare atto che questa è una squadra che non molla mai, è una squadra di una ferocia, di una forza di volontà nel voler vincere, è altissima e mi sembra che sicuramente ci sono annate in cui la fortuna ti sorride, annate in cui la fortuna ti sorride un po' meno, però non penso che tante vittorie fatte al photo finish da parte loro sia solamente fortuna, credo sia questa voglia di non mollare mai e di continuare a crederci, è un gruppo veramente che sta facendo una buona pallacanestro, tutti pensavano pensavamo che dopo l'inizio un po' entusiasmante poi potessero calare, invece continuano la loro strada con grande forza perché hanno qualcosa dentro, sono ben allenati, hanno una buona chimica e hanno anche una grande ferocia nel conquistarsi le cose, quindi io sono particolarmente preoccupato per questa partita, so che è durissima, so che sarà una gara molto molto difficile a livello tecnico-tattica, faccio un esempio, con Milano era difficilissimo poter pensare di vincere là però era molto chiaro quello che dovevamo fare, era facile trasmetterlo ai giocatori, il piano partita era, con loro è un po' più difficile perché fanno tante cose, non ti puoi preparare su tutto, devi avere, devi lavorare più sui concetti di pallacanestro sia difensivi che offensivi e ci sono delle situazioni particolari, quindi ti prospetto una gara molto molto difficile detto questo è una gara che dobbiamo provare a vincere in tutti i modi e credo che per Avellino sia una, per tutti noi sia un banco di prova di maturità molto 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 alta in più ci condiamo tutto questo dal fatto che loro sono avanti a noi, che l'abbiamo perso di sei punti e che se dovessimo vincere di sette secondo me si riapre molto per poter andare all'inseguimento, quindi c'è grande stimolo anche da questo aspetto ultima cosa, fa strano giocare a mezzogiorno perché tu ti alzi la mattina, scendi dal letto fai colazione e ti butti in campo, insomma non è, io ho giocare a mezzogiorno non parecchie volte però qualche volta ho alternato partite meravigliose a partite in cui i primi cinque minuti non si arrivavano neanche al ferro con dei tiri buttati là così perché non si era pronti, particolarmente strano però giochiamo sia noi che loro, vedremo come andrà a finire. Sai il peso ce l'hai quando arrivi all'ultima giornata se perdi retrocedi, è quello il peso perché ecco io nell'andare a vincere non sono mai sentito sotto pressione, nel se perdo vai giù, ecco lì c'hai l'angoscia che ti mangia la testa perché io credo che invece le vittorie servono a portare l'entusiasmo servono a portare anche della tua consapevolezza di poter vincere, di poter dire ok quando arrivi agli ultimi minuti sono pronto per fare le cose giuste, quindi questo peso io non lo sento, però è chiaro che poi devi essere una squadra matura e non essere presuntuoso, questa è una cosa diversa, sinceramente io anche sono un po' noioso ma dico quello che non posso inventarmi delle bugie, questa squadra qui quando ha perso, quando ha vinto ha sempre lavorato con grande serietà e con grande partecipazione, poi è chiaro che quando vinci la fiducia nei tuoi mezzi aumenta un pochino, quando perdi vai a casa e dici cazzo ho fatto tutto il possibile e ho perso, però non sento tanto questo, sento più il fatto di non sottovalutare minimamente i Pistoia, sapere che probabilmente è una partita che potrebbe concludersi anche negli ultimi minuti o nell'ultima azione e avere la forza di volontà di essere lì tenace per poterla portare a casa, ci sono tre risultati di questa partita, la prima che possiamo perdere ed è il risultato che vorremmo veramente evitare in tutti i modi, la seconda è vincere anche di uno e io ne sarei già stracontentissimo, se poi succede che vinciamo di più di sei ecco allora lì hai fatto qualche cosa di realmente importante per il tuo futuro, per il tuo cammino della regola season? Beh, non credo mezza parola al fatto del discorso che mancherà all'esterno, che cambia del playmaker, non voglio credere che Pistoia abbia delle difficoltà sotto questo aspetto, anche perché comunque se non c'è Filloi, Gnoles gioca da playmaker e può giocare da tonuti da tre, quindi non credo che sia in una partita secca un giocatore che manca, loro riescono a rimpiazzarlo molto bene, il fatto che giochino sui lunghi mi sembra che sia una squadra che ha un equilibrio importante tra esterni e lunghi, non credo che sia la partita dei lunghi o la partita degli esterni, credo che loro abbiano tre giocatori che ruotano, diciamo quattro con Severini, che non è il nostro, è loro che fa il quarto lungo, ma soprattutto i tre lunghi, i tre lunghi importanti, perché Cis sta facendo un campionato devastante, Kirk in questo momento, penso insieme a Julian Wright, forse al lato di Bologna, anche se con molti più alte e bassi, sta dominando il campionato, perché sta facendo, sta dando questa doppia dimensione di cui parlavo prima, di cui tatticamente ti mette in una difficoltà pazzesca, cioè tu devi fare delle scelte e lui purtroppo per noi, qualsiasi scelta tu faccia, lui è capace di fare, giocare vicino a Canessi, giocare in movimento, di allargarsi e tirare, ecco, quindi mi sembra che sia così, così, un ottimo equilibrio, poi in verità, la biglia c'era sempre in mano il playmaker, riesce a beccare tutti quanti in modo molto, molto consistente, mi sembra che sia proprio una squadra che, ecco, loro sono una squadra di una particolarità, io credo, che al di là di questi giochi così, che qualsiasi di questi giocatori riesce a creare dall'uno contro uno, ecco, hanno questa forza che non è da tutti e di solito quando hai tanti giocatori che riescono a creare tutti dall'uno contro uno, solitamente sono giocatori egoisti che non se la passano, ecco, invece questi qua riescono a crearsi tutti da uno contro uno, a prendere un vantaggio ad arrivare al ferro sia a spalle a canestro che a fronte a canestro che dal pick and roll e poi riescono ad avere una circolazione di palla una volta acquisito il vantaggio che, ripeto, faccio i complimenti a Esposito perché bisogna dare atto ai colleghi che quando vedi una squadra che sembra che sia lì per caso, non è per caso lì assolutamente, perché gioca bene, perché ha interpretato, tutti interpretano il ruolo perfetto, però c'è anche un discorso tecnico-tattico preciso e, dopo, io l'altro giorno mi sono messo lì e ho fatto il mio solito lavoro di scoutizzazione, poi ieri notte ero lì che dicevo, ma cazzo fanno questi qua tutto, ieri mi sono riviste tutte e quattro una di fila l'altra e devo dire la verità, riescono a creare dall'uno contro uno e a prendersi un vantaggio e poi riuscire a passarsi la morsa con queste caratteristiche di chimica molto importanti. Poi, siccome non gioca a filoi, non gioca all'esterno, magari sta fuori così oggi, una caviglietta ad un altro, ecco, poi siamo tutti più contenti, però voglio dire, io non credo che loro, sono una squadra molto solida e tutti quelli che sono andati in campo hanno sempre dato tanto. Guarda, io da quando sono qui lo dico sempre, io penso che sia la squadra che si debba meritare l'affetto della gente e non aver l'affetto della gente in maniera incondizionata. Questa squadra è stata un po' la base, è stato quello che ci ha chiesto anche la proprietà Sirigas quando abbiamo firmato per Avellino, quando abbiamo iniziato. Io credo che questa squadra, tranne qualche piccola occasione dove ha dato qualche segno di presunzione, oppure perché è andata male a prescindere, io credo che abbia sempre dato tantissimo. Adesso oltre ad aver dato tantissimo sono venute anche le vittorie, è chiaro che se il fattore del campo ci aiuta, la segnale sembra di no, il fattore del campo faremo a porte chiuse, ha visto la luce che andata via, è chiaro che noi siamo più contenti. Però lo ripeto, io quello che voglio, oggi dopo questa conferenza ho la riunione di preparazione della partita con la squadra e quello che vorrei insistere sulla squadra è che noi ripartiamo da zero tutte le volte, non voglio farmi toccare da come dovevamo essere bravi e io le ho ripetuto più volte a tenerci fuori l'ambiente esterno, quando abbiamo perso qualche partita di troppo dobbiamo essere capaci di lasciarci fuori l'ambiente esterno adesso che vinciamo qualcosa, cioè tutto deve partire da noi. Ma ripeto, se fosse qua domani tutto esaurito è sempre, insomma, si vive anche di emozioni e quindi è anche bello giocare in un palazzo del genere.